Eeeeeeeh Ulla ragazzi come sempre è Travis Chi vi parla oggi? Sono qui tornato con un nuovo video Su Call of Duty Infinite Warfare Per portarvi un nuovo video Molto molto diverso dagli altri Che vi porterò su questo gioco Ovvero un video, un episodio su Gun Game, ovvero gioco delle armi Signori non l'ho mai giocato, giuro su Di me, che questa è la prima partita in assoluto Non ho idea di quale armi ci siano Non ho idea di nulla regà, di nulla proprio Cioè non ho idea degli spawn Non so niente, questa mappa l'ho già portata ieri Raga, lo so però Cioè che cazzo devi fare Non è colpa mia regà, allora Cuffie e proviamo A vincere raga, anche se è la prima partita E la vedo molto complicata La vedo molto complicata Allora queste cosa sono? Due pistole Che sparano Ok, automaticamente, perfetto Allora, perfetto Non l'ho ucciso? LOL, non l'ho ucciso regà Volvi ridere, non l'ho ucciso Ok, stavolta l'ho ucciso Va bene raga Non guarderò il risultato Abbiamo l'UMP L'UMP, incredibile l'UMP Che non l'ho mai provato Che nessuno di noi l'ha mai provato sicuramente Perché comunque ci sarà solo sul gioco completo Allora, sono concentrato al massimo Sono veramente concentrato al massimo E voglio portare Gun Game 1 Perché ho appena visto che c'è Quindi ho detto La devo assolutamente registrare La prima partita Anche se la perdo Cioè non mi interessa La devo assolutamente Reccare Signori Allora, fatemi vedere Secondo me C'è Allora Devo già memorizzarmi gli spawn Raga Perché così riesco a giocare un attimino Decentemente Questo ha già rotto il cazzo Siamo 3 al 5 Comunque dai Si può fare Signori Allora Vediamo un po' Abbiamo Ce n'è uno dietro Madonna regà Ok Il problema Vero è che Oltre a non sapere gli spawn Non so neanche come sparano le armi Capite Non so proprio nulla Non so nulla Se avessi fatto un gioco delle armi Prima di questo Avrei saputo Ovviamente Minimamente Almeno Come sparasse un'arma Rispetto a un'altra Che ne so Ok Allora Mo' vado a intuito Cioè questo è un cecchino Vabbè questo è un cecchino Spara come un cecchino Nel senso Allora Vediamo il mirino Com'è Ok Come tutti i cecchini Perfetto Ribesso è una specie di Ok Perfetto Allora innanzitutto Ditemi se volete Uno sniping in live Raga Sotto nei commenti Adesso proprio Adesso in questo momento Dovete commentarmi sotto A dire Si voglio sniping in live Su infinite warfare Perché Io ho intenzione di portarvelo Oddio Cos'è sta merda Cos'è sta roba Regà Boh Va a capire Allora Tra l'altro se tieni Punto triangolo Cioè questo Oddio Qui si divide l'arma Regà Addirittura se tieni Punto triangolo Oh madonna Regà Che stile Questo che fa Se tieni Punto triangolo Non si sa Cos'è sta roba Regà Vabbè Gli spariamo Senza mirare No No raga Meglio l'altro mirino Ah no L'abbiamo ucciso Alla fine Credo eh Non lo so Regà Non ci sto capendo Una sega Ok Non sapevo Che cazzo Di arma fosse Scusate Se non parlo tanto Ma non avete idea Della concentrazione Per fare una roba del genere Siamo pari Io e il secondo Dobbiamo O il primo Dipende dai punti di vista Dobbiamo assolutamente Vincere raga No assolutamente no Perché Alla fine Aspettate Eccolo Non so nemmeno Come funziona Cioè non so neanche Le armi quali sono Appunto Già ve l'ho detto Quindi Vincere mi sembra Veramente C'è Una cosa Molto complicata Però alla fine Sto vedendo che questi lobby Non sono comunque Dei mostri Di gun game E qui possiamo farci Allora questo è un fucile a pompa Dai Ok Perfetto Meno male va Questo qui dovrebbe essere Tipo una specie di mp5 Raga Dove cazzo era Sto laggando raga Sto veramente laggando Che palle Allora Da qua per forza Ne esce uno Infatti Come avevo previsto Da qua anche O anche da qua Eh ho fatto una cazzata raga Ho fatto una cagata proprio Ok 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 aspettate Questo è un fucile a pompa Quindi possiamo Andare qua E trovarcelo subito qui Ok Eccolo Ok Mamma mia Rega la complicatezza Di tutto ciò Non avete idea Di quanto è Quanto sta quello 15 Noi siamo a 14 Va bene ragazzi Ok Ok Va bene Va bene Non so cosa abbia fatto Ok signori Ah ma doveva prendermi col tomoc Ah ok Non avevo capito Signori Beh siamo arrivati I terzi Abbiamo fatto 17 17 Il che se saltavo Rega neanche io rendevo Mi prendevo la kill Vabbè raga Ci facciamo ovviamente Un altro Ok raga Eccoci qui con la seconda partita Allora Stavolta Le armi sono diverse Da quanto vedo Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Perché prima mi pare Che avevo La kimbo Di queste pistole Qui Ok Che è tornata Signori Madonna mia Andiamo a vedere qui Questo dovrebbe essere Un fucile a pompa Rega Ammazza Oh Due colpi Non l'ho ammazzato Pensavo di shotarlo con uno Figuratevi Ok eccolo Ok 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 Signori Perfetto Concentrazione Vediamo cosa abbiamo adesso Cosa abbiamo adesso Non ne ho idea Spero sia un fucile automatico A 42 colpi Quindi teoricamente Dovrebbe essere automatico Come fucile Andiamo un po' Allora Tra l'altro Sta mappa Fa veramente schifo No Chi me l'ha fottuto Figlio di troia Ok Sapete che questo Ho già messo sul cazzo Ok Va bene Va bene Non so Non ho la minima idea Di con cosa sto sparando Rega Perché cambiano ogni partita Da quanto ho capito Cioè Prima erano diversi i fucili Non erano questi Allora Il tizio è a 4 Noi siamo a 5 Oh Siamo sempre a perda Allora vediamo un po' Vediamo un po' Perché questa non è una mappa Che preferisco Oddio Aspetta no Eh ho sbagliato io Perché devo scivolare Mentre cambio arma Non si sa Rega Cioè perché devo andare addosso Al nemico Mentre cambio l'arma Oddio Oddio Cos'è sta merda Rega Rega che cazzo è Ma che è Ma che cazzo è Rega Ma stiamo scherzando Ma che roba è Madonna Rega Scusate per l'ignoranza Davvero Ma non penso che C'è Nessuno sa i fucili Di questo gioco Ok 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 Perfetto Ora abbiamo Non lo so cosa sia Mi sa che è Ledar Come cazzo si chiama Rega Non voglio sparare Nomi a caso Però mi sembra sia quello Ok Perfetto Signori Perfetto Bellissimo Bellissimo Ok Andiamo Non un po' Questa è raffiche Ok Porca troia Quanto sono scarso Ok Questo non so cosa sia Una minigun Che cazzo è Madonna Mia mi è sciolto Vabbè Vaffanculo Ci puoi anche morire Per me Puoi anche morire Allora Vediamo un po' Non c'è sul tizio Ma che cazzo De armi Comunque Io boh Questo gioco Mi piace sempre De meno Comunque Rega Stiamo alla beta E già Mi ha rotto i coglioni Figuratevi Figuratevi Boh Se è normale Avere un fucile Del genere Ok 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 Ma non Ma sti cosi Non sciottano mai Ma fammi capire Ma io boh Sobbitato di fucile A pompa Che non dico Che sciottano Ma che comunque Almeno con due colpi Cazzo Ti fanno fuori Allora siamo a 14 Il tipo è ancora a 17 Mi pare di aver sentito No Ok Allora Vediamo Ehi Alla 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 Cecchino Signori Ha vinto Stavolta Manco terzi Siamo arrivati Signori 15-15 Non riusciamo a fare Niente di meglio Vabbè ragazzi Io ci nerdo Un po' Magari E poi Vi porterò Un altro video Per capir bene Insomma Come cazzo Funziona Io spero Quei video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like Un commento Tutti i social Ovviamente Sono in descrizione Ci picchiamo Quei sempre domani Con un prossimo video Qui dal Vestuto E bella Ragazzi Voli